Ben ritrovati a tutti e a tutti a questo nuovo video nel quale vi voglio presentare un tema che qualcuno potrebbe trovare interessante o particolarmente utile, ovvero quello delle applicazioni dei programmi portabili. Ho messo volutamente qui come sfondo iniziale di questo video il sito portableapps.com che è piuttosto, anzi assai famoso, forse il progetto più noto e più diffuso di questi sistemi di applicativi portabili. Chi utilizza Windows, chi ha avuto a che fare con i sistemi operativi Windows sicuramente o quasi sicuramente si sarà interessato, avrà già usato oppure avrà già sentito parlare di portableapps. Che cos'è? In sostanza portableapps è un programma a sua volta che si installa per esempio su una penna USB sufficientemente capiente e questo programma è praticamente un gestore degli altri programmi che volete portare con voi sulla penna USB. Quindi installate quello, scaricate i programmi opportunamente, come dire, compilate, configurati con tutte le dipendenze delle librerie necessarie, li mettete sulla stessa penna USB, li gestite attraverso questo portableapps, il gestore, e poi potete farli partire e utilizzarli direttamente dalla vostra pennetto USB sul vostro PC Windows, con installato Windows. Ecco, questo è proprio in nuce il funzionamento base di questo sistema portableapps. Lo scopo cos'è? Il vantaggio oppure lo scopo, diciamo pure lo scopo qual è? È quello di portare con sé una piccola penna USB e da qualsiasi parte ci si trovi innestare questa penna USB su un PC, ripeto, con sistema Windows e avere con sé i propri programmi preferiti senza intaccare minimamente il PC che ospita la penna USB. Voi potete usare, che ne so, LibreOffice, vedete qui il vostro browser preferito, ci sono diverse decine e centinaia di programmi che potete mettere su questa penna USB e sulla quale ovviamente potete anche archiviare i vostri documenti di lavoro o temporanei anche o meno e quindi avere appunto nella vostra tasca solo questa penna USB con tutto il software vostro preferito, col quale siete abituati a lavorare, ripeto, senza intaccare minimamente il PC che ospita questo sistema, perché tutto lavora nella memoria della penna USB. Finito il lavoro, smontate la penna USB, la mettete in tasca, ve ne andate il PC che vi ha ospitato e tale quale resta intatto in tonso. Avete semplicemente, per così dire, sfruttato la forza della CPU e della scheda grafica, del video, del mouse, della tastiera, tutto del PC, ma non lo avete, tra virgolette, sporcato con il vostro software perché l'avete con voi. Ecco, questo appunto è lo scopo di utilizzare un sistema tipo Portable Apps. Ecco, questo era solo un'introduzione naturalmente perché Portable Apps è un progetto, un sistema basato su sistemi Windows, di cui appunto, secondo me, se avete a che fare con quel sistema, ne avrete già sentito sicuramente perlomeno parlare. Possiamo chiudere questa scheda e facciamo apparire la scheda di un altro progetto sulla stessa falsariga, ovvero che ha lo stesso obiettivo di permetterci di installare cose o semplicemente eseguire applicativi senza intaccare il sistema ospite, il PC ospite di cui useremo soltanto la parte hardware, insomma, tastiera, mouse, video, eccetera, eccetera. La differenza dove sta, ed ecco perché sto registrando questo video, che questo progetto, Orbital Apps, ha gli stessi scopi di Portable Apps, ma per ambiente, per sistemi operativi Linux. Vedete qua, una nuova generazione di applicativi Linux, li chiamano così per farsi pubblicità di questo progetto. Devo dire subito che specificatamente allo stato attuale di questo progetto è, diciamo, dedicato, quasi, non voglio dire esclusivamente, ma soprattutto testato, dedicato e provato di funzionamento su Ubuntu 16.04, ovvero l'ultima versione attuale a lungo termine di supporto. Ecco perché sto registrando questo video all'interno della mia macchina virtuale sulla quale ho installato Ubuntu 16.04 e non sul mio sistema, come dire, vero, installato realmente, perché lì ho ancora Ubuntu 14.04. Non ho fretta di fare l'upgrade, quindi, però, ecco, via VirtualBox, da tempo mi sono creato una macchina virtuale con l'ultima versione di Ubuntu 16.04, la quale prima o poi passerò effettivamente. Fatto sta che, appunto, Orbital Apps è un progetto che offre già diverse, non tante come Portable Apps, è un progetto più giovane e offre comunque già un buon numero di applicativi nella forma portabile. Vedete qui, Portable Apps. Possiamo dare un'occhiattina, come potete farlo anche voi. Ovviamente vi lascerò nella descrizione del video il link necessario, andare a curiosare. Vedete qui le Portable Apps, qui potete vedere il catalogo. Qui ce ne sono alcune, VLC, Thunderbird, Gimp, Firefox, ma ce ne sono altri. Qui, se cliccate qui, cliccherete, se vi interessa questo progetto, vedete, soprattutto per Ubuntu 16.04. E' stato testato e hanno lavorato su questa piattaforma. Vediamo un po', vediamo un po'. Ecco, qui c'è tutto l'elenco degli applicativi allo stato attuale che potete installare, o meglio, che potete scaricare ed utilizzare in questa modalità portabile. Questo progetto, a differenza di Portable Apps per Windows, non ha solo lo scopo di offrire applicativi portabili, quindi che non intaccano minimamente il sistema ospitante, ma anche i cosiddetti Super Debs. Cosa sono i Super Debs? In due parole, sono dei pacchetti di installazione, questa volta, veramente di installazione, come quelli che troviamo nei repository normali del vostro sistema Ubuntu o Linux in generale. Sono dei pacchetti Debs che offrono gli stessi applicativi che potete già avere installato sul vostro sistema, ma, con la differenza, che sono, come dire, configurati, formati, in modo che, con lo stesso principio delle Portable Apps, i Super Debs includono anche tutte le dipendenze, le librerie per ognuno dei programmi. Il che non è il caso per i pacchetti che trovate nei repository, diciamo così, normali, classici, della vostra Ubuntu o della vostra distribuzione Linux, del vostro sistema operativo Linux basato su Debian. Solitamente, nella cosiddetta normalità fino ad oggi, se voi installate Firefox, installate, per così dire, per farla semplice, solo tutto ciò che è veramente Firefox, perché poi il pacchetto di Firefox si aspetta che le dipendenze, ovvero le librerie necessarie a far funzionare completamente Firefox nel vostro sistema operativo, siano già presenti e installate sul vostro sistema. Quindi, il pacchetto Debian di Firefox include quello che è veramente specifico di Firefox, quello che può essere in comune, come librerie dell'ambito Linux, dell'universo Linux, questo pacchetto si aspetta e pretende che siano già installate come dipendenze. Ecco perché si chiamano dipendenze, perché generalmente sono delle librerie di sistema comuni che usano diversi, per non dire tutti i programmi, ecco, può essere LibreOffice, può essere VLC, può essere Chromium, Firefox, queste librerie vengono chiamate appunto dipendenze, perché sono di utilizzo comune a diversi programmi. Ecco, quello che questo progetto fa di diverso è creare per ogni applicativo, per ogni software, quindi prendiamo per esempio Firefox, lo crea includendo le versioni di librerie che normalmente sarebbero delle dipendenze, includendo quelle che servono a quella determinata versione di Firefox, rispettivamente di VLC, di Chromium, eccetera, eccetera. Quindi, questi SuperDebs sono già, sono completi di queste librerie. Cos'è il vantaggio di questa cosa? È giusto, piccola parentesi per concludere il discorso, le Portable Apps hanno lo stesso principio, quindi sono applicativi portabili, vuol dire che includono questo, diciamo così, pacchetto software portabile, viene incluso tutto, comprese le librerie che normalmente sono già installate sul vostro sistema operativo e messa in comune per tutti i software. Ecco, queste Portable Apps e questi SuperDebs invece includono tutto per ognuno degli applicativi, quindi potete intuire cosa sia il vantaggio che non dipendono appunto da pacchetti messi a disposizione dalla vostra distribuzione, quindi ogni applicativo è indipendente ed è sicuro che funzioni perché tutto è coerente all'interno del suo stesso pacchetto. Lo svantaggio, tra virgolette, è che sono pacchetti più pesanti, ovviamente, più grossi, perché devono includere anche ciò che normalmente nei pacchetti normali che trovate sui repository, anche in quelli PPI, repository aggiuntivi, non trovate. Quindi saranno tutti pacchetti leggermente più grossi, però sono tutti, diciamo, ognuno è un universo a sé, quindi l'universo Firefox, l'universo VLC, eccetera, eccetera, che permettono a questi applicativi di funzionare indipendentemente dalla versione delle librerie che avete in questo momento installato sul vostro sistema operativo. Ecco, spero di essere stato sufficientemente chiaro, non è difficile in sé come concetto, ma come spesso accade è più difficile spiegarlo che in realtà com'è in quanto tale il concetto. Ecco, quindi sia Portable Apps che Super Devs sono basati su questo principio, quindi di includere tutto ciò che serve applicativo per applicativo, a ognuno tutto ciò che serve, la differenza tra i due è che i Super Devs sono dei pacchetti che vanno ad intaccare il vostro sistema operativo perché vi installano, come qualsiasi altro pacchetto da repository, vi installano effettivamente l'applicativo che voi scegliete, le Portable Apps invece lasciano intatto il vostro sistema operativo. Ecco, questa è la differenza tra i due. Cos'è il vantaggio? Ho detto prima che un vantaggio è che naturalmente c'è garanzia che questi applicativi, indipendentemente dalla loro versione, funzioneranno perché hanno a disposizione tutto ciò che gli serve per funzionare e il vantaggio, diciamo, direttamente a cascata collegato a questo, è che il Firefox di turno, il VLC, può essere installato o eseguito all'ultimissima versione, quindi alla più recente, che non quello che trovate nei repository del vostro sistema operativo. Perché questo è un vantaggio? Perché chiunque usa un sistema operativo Linux preconfezionato, diciamo, come tipicamente Ubuntu, più passa il tempo, più le versioni di applicativi base, classici, come può essere Firefox, Chrome, un VLC, tutti questi applicativi che arrivano già pronti nei repository di Ubuntu, non vengono aggiornati o raramente nel corso del tempo. Se voi usate, soprattutto questo, ve ne accorgete, se usate una versione LTS a lungo termine di supporto, che ha supporto addirittura di 5 anni, Se aspettate 5 anni, potreste anche trovarvi con degli applicativi vecchi di 5 anni, che nel frattempo sono andati avanti nelle versioni, ma che per questione di stabilità e di garanzia di funzionamento di tutto il sistema, chi gestisce quella versione di Ubuntu, nel nostro caso Canonical, non rilascia, non aggiorna questi pacchetti, perché preferisce mantenere delle versioni più vecchie, ma stabili e garantite che funzionino col vostro sistema. Quindi, Ubuntu 16.04 è vero che è appena stato rilasciato in aprile, ma sta passando il tempo, magari Firefox è presente qui nella versione, che ne so, 44, e dopo un mese, due mesi, tre mesi, siamo già alla versione 47, ma voi restate alla 44 magari per 5 anni o due anni, ecco. Il vantaggio di progetti come questo è che vi permette, se lo desiderate, se avete necessità, di avere un applicativo portabile, quindi portabile, che non vi sporca al vostro sistema operativo, a una versione più recente, oppure addirittura con i Super Debs potete anche installarla sul vostro sistema, a una versione più recente del Firefox di turno, senza mettere in pericolo il funzionamento di tutto il sistema operativo, perché questi Super Debs si portano dietro tutte le librerie necessarie per loro, quindi si integrano nel software installato normalmente sul vostro sistema operativo, ma in un modo particolare. Ecco, voilà. Detto questo, e ripeto, spero di non essere stato né troppo lungo, né troppo confuso nella spiegazione, vediamo come si passa l'atto pratico, come si usa questo Orbital Apps. Il tutto, per quanto riguarda le Portable Apps, si basa su un ORB Launcher, che è, diciamo, il corrispondente del gestore degli applicativi di Portable Apps, di quello che è, del progetto di cui vi ho parlato all'inizio del video. Si scarica questo ORB Launcher, che è in formato ISO, lo vedete in basso a sinistra, vedete, ORB Launcher 01.047 ISO, che ISO è un formato tipo immagine di disco di installazione. Ecco, una volta scaricato, come lo si installa? Tasto destro, apri con monte immagine disco, quindi, appunto, essendo un punto ISO, è un'immagine disco, quindi voi potete montarlo, e, una volta montato, adesso, vediamo come reagisce la mia povera macchina virtuale, che sul mio PC, che non è velocissimo, come sempre, ci metterà un attimo. Ecco, ha montato l'immagine, vedete qui, e vedete qui che è apparso l'icona del disco, ecco, poi, dopo un attimo, una volta montato il disco ISO, che è una specie di, come dire, autorun, auto, in formato, modalità autoesecuzione, appare questo dialogo, dove dice, che questa immagine ISO, contiene software progettato, per essere avviato automaticamente, eseguirlo, voi fate sì, io non lo faccio, perché l'ho già fatto, esegui, aspettate che finisca il suo lavoro, vi uscirà un, un, come dire, una conferma, che, il tutto è installato, se non vi ricordate qualcosa, se non vi è sufficiente, quanto vi sto dicendo, c'è sempre la documentazione, qua, del progetto, e, vedete, come installare, in inglese, ma, vabbè, come al solito, discorso sull'inglese, l'abbiamo già fatto tante volte, che è la lingua franca della rete, come installare, il launcher, o RB, mediante la ISO, ecco qua, e qui, vedete, quello che vi ho appena detto, tasto destro, montate l'immagine del disco, vi appare questa finestrella, quella che abbiamo visto prima, fate il run, ovvero esegui, e poi, aspettate che, mettete la vostra password, se necessario, e via, e aspettate che finisca, la sua, la sua attività, questo launcher è la premessa, per poter eseguire, le portable apps, o per poter installare, i super dabs, perché è un software, appunto, come il corrispondente, del progetto per windows, portable apps, è un software, che fa da tramite, fra lui, appunto, fra il vostro sistema, e quanto scaricate, fra le portable apps, o i super dabs, a questo punto, cosa potete fare, potete scegliere, quello che vi serve, fra le portable apps, per esempio, partiamo con queste, e io naturalmente, l'ho già scaricata, e voi come fate a scaricarlo, venite qui nel catalogo, delle portable apps, e scegliete, quello che avete bisogno, che ne so, a Beward, fate click, vedete che escono, dei dettagli, a quale versione, è stata preparata, a questo pacchetto portabile, quanto è grosso, eccetera, eccetera, formato del file, ORB, perché è tutto gestito, appunto, nel progetto, ORB, che si chiama così, Orbital Apps, e qui c'è il pulsante, di download, quello che scaricate, come vedete, sempre in basso a sinistra, il link, l'evidenziazione del link, vedete, in ultimo, abword301portable64bit.orb, questo è un file, io ne ho già scaricato uno, giusto per fare un esempio, eccolo qua, io ho scaricato, il qubit torrent, portable, 64 bit, eccetera, eccetera, ecco, scaricate questo file, questo file, è il contenitore, del software, in questo caso, del programma, qubit torrent, e di tutte le librerie, che questo programma, ha bisogno, per essere eseguito, Allora, come si fa, ad eseguirlo? Quindi, se fate tasto destro, vedete che la prima scelta, è Apricon, ORB Launcher, che abbiamo già installato, in precedenza, vedete che, quindi, i file, con l'estensione, .ORB, vengono riconosciuti, come file, gestiti, da questo launcher, vedete, tutto integrato, quindi nel vostro sistema, Ubuntu 1604, tutto è coerente, avete, come primo passo, installato il launcher, con questa ISO, dopodiché, quando vi scaricate, questi file, .ORB, vengono riconosciuti, come tali, vedete anche le icone, appaiono belle, coerenti, con il progetto, come si fa, basta fare doppio clic, quindi, doppio clic, e, aspettiamo che, che parta, qui come sempre, sto lavorando, nella macchina virtuale, come dico sempre, il mio pc, non è particolarmente veloce, non ha tantissima memoria, da condividere, con la macchina virtuale, quindi, sono sempre tempi, un po' lenti, però, vedo che qualcosa, inizia a muoversi, speriamo, che ce la faccia, a partire, su, eccolo qua, eccolo qua, vedete, Qubit Torrent, questo è il programma, Qubit Torrent, né più né meno, di quello, che potete trovare, nei repository, della vostra distribuzione Linux, eccolo qua, la versione, appunto, come promesso, mi sembra, 3, ecco, 3.3.1, funziona, esattamente, tutto, la differenza, dove sta, che non abbiamo installato nulla, abbiamo scaricato, semplicemente, il file, contenitore, .rb, fatto doppio click, e, magicamente, attraverso, il lavoro, dell'ORB Launcher, ci appare, l'applicativo, la mia macchina virtuale, ovvero, il mio sistema, .1604, non si accorge, nemmeno, a livello di sistema, che, io, sto, usando, un programma, non è installato, per il mio sistema operativo, io non ho installato, Qubit Torrent, nella mia 16.04, però, grazie a questo sistema, di applicativi, di software portabili, io posso, utilizzarlo, senza, tra virgolette, sporcare il mio sistema, e qui, posso fare, quello che è, insomma, ecco, quello che ho bisogno, insomma, chi conosce, chi è abituato a usare, Qubit Torrent, lo saprà usare, eccetera, eccetera, insomma, qui non devo spiegare, niente, esco, faccio esci, non, tutto è pulito, quindi sono tornato, al punto di partenza, sul mio sistema, non risulta nulla, di questo, programma, che ho appena aperto, per essere eseguito, tra l'altro, qui è rimasto, montato, il, la ISO, di installazione, dello RB Launcher, che non è necessario, quindi lo posso anche smontare, non serve, una volta che ho installato, il Launcher RB, è fatto, questo non serve più, era solo, un'operazione, a premessa di tutto il resto, quindi il mio Qubit Torrent, se mi serve, ce l'ho, a me basta avere, su una penna USB, o in questo caso, l'ho messo sul disco, del, del mio sistema, nella macchina virtuale, basta avere, questo contenitore, punto RB, questo file contenitore, quando ho bisogno, di questo applicativo, doppio clic, lo uso, spengo, basta, finita lì, il SuperDeb, ecco, il SuperDeb, andiamo a vedere, se c'è un catalogo, anche di quelli, ta ta ta, vediamo un po', ops, SuperDeb, eccoli qua, tutti, SuperDeb, il catalogo, vediamo un po', eccoli qua, questi, sono, gli attuali, SuperDeb, disponibili, come, ho già fatto prima, ne ho scaricato uno, a caso, EasyTag, che è il programma, che permette di, gestire, i, i metadati, dei file mp3, eccetera, eccetera, insomma, quello dove mettete il titolo, l'autore, eccetera, eccetera, uno a caso, così, ecco, a differenza del, di Qubit Torrent, EasyTag, invece, installa, è un file, ORB, lo stesso formato, di Qubit Torrent, ma, in realtà, installa, il, il programma, unendolo, aggiungo, devo aver fatto un doppio click, per sbaglio, mi sta partendo ancora una volta, un programma, fa niente, dicevo, questo SuperDeb, verrà aggiunto, l'ho fatto ripartire, senza volerlo, scusate, ripartito Qubit Torrent, ecco, il SuperDeb, quindi, lo installa, effettivamente, sul vostro sistema, quindi, tenete presente, che il portable, vi lascia pulito il sistema, SuperDeb, stesso sistema, doppio click, questa volta, andrà a installare, la versione, che avete scaricato, dal, progetto, Orbital Apps, non, ecco qua, si sta aprendo, vedete, vedete che è diversa la partenza, non vi fa partire semplicemente il programma, ma vi dice, vuoi installarlo, fate OK, e lui, vi chiede la puzzle, perché questa è un'installazione, è un'installazione, quindi vi chiede la puzzle del vostro sistema, vediamo un po', ok, e sta installando, mentre installa, perché forse ci vorrà un attimino, vi devo anche spiegare, di non spaventarvi di questa cosa, non va a rovinare niente del vostro sistema, perché? perché se EasyTag del mio file ORB, è alla stessa versione dell'EasyTag presente nei repository di Ubuntu, del mio sistema, lascia quella che è presente, quindi se io, come è in questo caso, sta provando a installare, o verificando se installare la mia versione scaricata di EasyTag SuperDeb, se è uguale o inferiore a quella del sistema, naturalmente lascia quella del sistema, vedete, ha finito, ha finito di installare, ok, ecco, vi dice EasyTag installato con successo, voilà, finito, l'avete nel vostro sistema operativo, questa volta l'avete proprio installato, quindi ripeto, se la versione è uguale a quella del sistema operativo, ve la installa, ma vi installa quella dei repository, diciamo, ufficiali. SuperDeb fa qualcosa, effettivamente, sul vostro sistema, solo se la versione è successiva, quindi parlavamo del vantaggio di questo tipo di gestione del software, se mettiamo che Ubuntu 16.04, adesso è appena uscita, quindi le versioni sono recenti, quelle nei repository, ma facciamo che siamo nel 2017, maggio 2017, fra un anno, EasyTag è uscita nella versione più nuova, ecco, nel vostro repository, con moltissima probabilità, avrete sempre il vostro EasyTag, diciamo la versione 2, è uscita la versione 2.5, voi potete andare a scaricarvi la 2.5 di EasyTag SuperDeb, fate quello che ho appena fatto, quindi doppio clic, password, installazione, questa volta sì, che il pacchetto SuperDeb si accorge, che voi avete nel vostro sistema una versione inferiore, e ci passa sopra, ve la sostituisce con tutte le librerie necessarie, senza però incasinare nulla, ve lo mette semplicemente sopra come versione nuova, tutta coerente con le sue librerie, è lo stesso sistema della Portable Apps, ma questa volta proprio innestata, installata effettivamente nel vostro sistema operativo, quindi scegliete voi, in sostanza avete una scelta, se è un programma che usate tantissimo, che avete quindi installato sul vostro sistema operativo, perché lo usate tutti i giorni, vi converrà aggiornarlo, sempre se è necessario, con un SuperDeb, quindi installandolo effettivamente sul vostro sistema, se invece è un programma che usate occasionalmente, vi converrà usare una Portable App, quindi un applicativo portabile, che avete qui come file, fate doppio clic quando ne avete bisogno, lo usate, lo spegnete, magari per un mese, due mesi, non vi viene neanche più in mente di averlo bisogno, quel programma lì, ecco, quindi un po' diverso, quindi, a mio modo di vedere, il mio consiglio è SuperDeb, se è un qualcosa che usate tanto, addirittura tutti i giorni, volete tenerlo aggiornato, potete farlo con un SuperDeb, se no, Portable Apps, che potete avere anche su una penna USB, non necessariamente archiviato qui, sul disco del vostro PC, fate voi, comunque, ecco, con questo direi che io ho concluso il mio giro, vi ho mostrato quello che dovevo mostrarvi, spero di aver spiegato in modo sufficientemente chiaro, quanto dovevo chiarire, se avete un sistema operativo Ubuntu 16.04, garantito che funzionano le cose, perché il progetto ha lavorato specificatamente per questa versione, per altre distribuzioni Linux e altre versioni di Ubuntu, io non ho provato, non lo so, molto probabilmente, ci sarà scritto da qualche parte, provate se funziona meglio, se no, non garantiamo che funzioni, però trovo che sia un progetto interessante, e che va anche nella direzione giusta, per rendere un po' indipendenti queste distribuzioni Linux, che spesso e volentieri, il problema è più grosso, che restano indietro di versione, questo libera un po' da questi vincoli, ecco, e, fra parentesi, per concludere il video, vorrei aggiungere anche la nota, che Canonical, quindi la casa madre di Ubuntu, e tutta la famiglia di queste distribuzioni, sta lavorando, ad un sistema simile, se vogliamo, anche se non proprio uguale, più simile ai SuperDebs, direi, che è lo Snap, i pacchetti Snap, i Snap, che sono, praticamente, come concetto, identici ai SuperDeb, ogni applicativo, quando, fra, non so quante versioni, una, due, rilasci, non lo so, Canonical, cambierà, tutte le sue distribuzioni Linux, soprattutto Ubuntu, quella principale, e, la farà lavorare solo, con questi pacchetti Snap, o Snappy, saranno tutti, praticamente, come dei SuperDebs, quindi, ogni applicativo, sarà, chiuso nella sua Sandbox, con tutto quanto gli serve, per funzionare, e, non sarà più, l'Ubuntu, del prossimo futuro, non sarà più, lo stesso sistema Linux, che abbiamo conosciuto, finora, con queste librerie, dipendenti, che creano sempre, questi problemi, di coerenza, fra, le versioni, dei software, delle librerie, più o meno, aggiornate, ecco, quindi, diciamo che, Canonical, con la sua Ubuntu, sta andando, verso questa direzione, comunque, quindi, questo, se vogliamo, quello che vi ho mostrato, in questo video, è un po', un'anticipazione, del prossimo futuro, di come sarà Ubuntu, con questi, pacchetti, auto, contenenti, tutto, ecco, questo, volevo dire, lo ci tenevo, perché, appunto, è, un anno, di più di un anno, che con questo progetto Snap, e pacchetti Snap, Canonical, in realtà, sta proprio andando, in questa direzione, per, staccarsi, da questi vincoli, delle librerie, del sistema Linux, che sono sempre state così, un po', incasinati, ecco, un po' difficili da gestire, a lungo andare, voilà, con questo concluso, spero, troviate interessante, questo progetto, che, magari, potete, provare anche voi, con la vostra Ubuntu 1604, magari, per chi ha già aggiornato, con questo, vi saluto, e vi attendo, alla prossima volta, alla prossima occasione, ciao, ciao, ciao,